Andrea Braga per MSGTV, ad una settimana dal prossimo incontro di dialoghi la truppa è pronta per una nuova inchiesta. Il tema dell'inchiesta sarà la fragilità, chiederemo alle persone che incontreremo per la strada qual è il significato della fragilità, se la fragilità può essere un ostacolo ed è una risorsa nelle scelte quotidiane di ogni giorno e soprattutto se si può essere forti in modo assoluto. Anna Maria mi accompagnerà in questa avventura, cominciamo la nostra inchiesta, Andrea Braga per MSGTV. Se ti dico fragilità, cosa ti viene in mente? Con fragilità mi viene in mente una debolezza oppure una scarsa capacità di riuscire a conoscersi, quindi non è causata dall'esterno ma tanto da una questione interiore. Mi viene in mente l'essere umano, tutto quello che lo circonda, il suo modo di interazionarsi con gli altri, mi viene in mente il mondo delle relazioni, anche familiari, mi viene in mente il fatto che non possiamo mai essere certi di essere pienamente noi stessi fino a quando non ci mettiamo alla prova. Significa non essere in grado di fare qualcosa e di non prendere qualche decisione importante. Vuol dire avere un carattere che non riesce a sopportare le vicissitudini della vita e quindi si lascia andare e si deprime e che non sa come reagire alle vicissitudini di tutti i giorni. Non affrontare molti problemi, avere paura e non affrontare molti problemi e nemmeno chiedere aiuto. Essere fragili significa non saper affrontare i problemi di ogni giorno. Essere fragili, principalmente essere deboli a rendersi troppo facilmente. Essere sì, vulnerabili, due e due. Significa non credere tanto in se stesso. Ma la fragilità risulta un ostacolo o una risorsa in più nelle scelte che facciamo ogni giorno? Allora, inizialmente magari è un ostacolo, però con un'autoanalisi, un'introspezione può diventare un punto di forza dove se riesce a capire i punti più fragili di sé uno riesce a lavorare e migliorare in qualche modo i propri punti più deboli. È un ostacolo, perché secondo me è un esempio di fragilità. Secondo me vuol dire la timidezza, è la timidezza. È molto d'ostacolo. Infatti basta pensare alla persona che si ama e se non hai coraggio non puoi farci niente e è finita, insomma. Quando ti trovi di fronte alla fragilità capisci forse più cose, secondo me. Cioè riesci a capire quali sono veramente i problemi che ti stanno a cuore. Secondo me è principalmente un problema perché non ti permette di affrontare le situazioni nel miglior modo possibile. Secondo me no, può essere anche un pregio, una risorsa da sfruttare. La fragilità è anche riflessione, quindi se usata nel miglior modo è una cosa buona. Sicuramente può essere anche una risorsa per conoscersi meglio e per capire e capirsi. Da questo punto di vista è una risorsa perché con tutti i problemi che ti crei a volte trai dei benefici e capisci cose che magari se passi sopra delle cose non avresti notato. Potrebbe essere un ostacolo come una risorsa, dipende dalle scelte che bisogna fare nella vita perché se sei troppo fragile magari ti limiti a prendere certe scelte e se invece però nello stesso momento ti può anche rivelare utile perché ti può evitare di farti prendere scelte sbagliate. Durante la vita. Dipende dalle scelte che noi facciamo, dipende dal modo con cui approcciamo con noi stessi, con il nostro io interiore, dipende da come ci conosciamo, dipende da quanta sicurezza noi abbiamo in noi stessi e soprattutto da che ricchezza noi vogliamo ricavare da noi stessi. In poche parole, capirci, comprenderci, conoscerci, prima che capire gli altri, capire l'esterno, capire che è solo così che possiamo avere le nostre forze altrimenti saremo sempre precari, saremo sempre insicuri. Dipende dall'età, perché se è un bambino di 13-14 anni, un ragazzetto di 14-14 anni potrebbe anche essere, ma se ce n'è 18-20-19, la cosa è un po' diversa, credo. La fragilità, dice? No, non credo che sia una risorsa la fragilità, al contrario. La fragilità dovrebbe essere contenuta e soprattutto gestita. Fragilità, eh? Debolezza, paura, timidezza, umanità. Insicurezza. Risorsa, forse. Debolezza. Fragilità. Si può essere forti quindi in modo assoluto? Forti in modo assoluto è difficile ed è anche disumano forse pensarlo, non è proprio il massimo. Un punto di forza dell'essere umano forse è anche la fragilità appunto, insomma, finché si riconosce un ente debole anche sotto certi punti di vista, non rischia neanche di andare al di là di alcune possibilità, quindi può essere un punto di forza, sì. Forti in modo assoluto? Eh, sarebbe una bella cosa. Secondo me è un'utopia. Non si può mai essere veramente certi di essere forti in modo assoluto. Non ci conosciamo mai pienamente, figurati se riusciamo a essere veramente forti in modo assoluto senza avere le nostre insicurezze che possono anche essere delle nostre ricchezze, insomma, anche interiori voglio dire, anche esteriori. Ammesso che l'esteriorità conti veramente per qualcuno invece che contare l'intelligenza, la razionalità e quelle cose lì, insomma. Bisogna avere la forza per farlo, ecco. Per essere, dico, per essere forti bisogna crederci, ecco. No, perché comunque tutti quanti hanno un punto debole in cui sono fragili. Siamo arrivati al termine della nostra inchiesta. Come abbiamo ascoltato dalle persone intervistate, la fragilità è stata ricondotta ad un aspetto importantissimo della sfera intima della persona umana. Molte persone però hanno detto che la fragilità è qualcosa di negativo, qualcosa che è legato alla debolezza dell'uomo, ma siamo forse sicuri che la debolezza e la fragilità siano sinonimi, che la fragilità sia sinonimo di paura, o forse può essere che la fragilità sia veramente un elemento di risorsa per l'uomo legato alla sua vera umanità. Un grazie ad Anna Maria per le sue interviste, un saluto da Andrea Braga per MSC TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.